Sono partiti oggi, mercoledì 5 gennaio, nella città di Fano, i saldi invernali che dureranno fino al primo di marzo. Dopo lo shopping natalizio, queste vendite di fine stagione rappresentano un altro momento importante per i commercianti, ha detto l'assessore alle attività economiche Etienne Lucarelli. Un'occasione per tornare nel nostro centro storico, ricco di iniziative in questi ultimi giorni festivi, ma soprattutto per aiutare i nostri commercianti. Ed obbligo per tutti noi dare vita, dare forza alle attività economiche della nostra città. Siamo nell'ultima settimana del Natale, entriamo nella settimana della Befana, proprio oggi partono i saldi, quindi le diverse attività economiche del centro storico, i negozi di vicinato sono attive con i saldi. Ritornerà il mercatino al Pincio, dedicato alla Befana, un'area quella del Pincio, grazie alla Proloco di Fano, che è stata veramente una delle più belle di questo Natale. Quindi ritorneranno le casette con gli espositori all'interno. Il 6 sarà una giornata dedicata un po' alle Befane, dove in centro storico saranno diverse le associazioni come Vespa Club e Viviamo Centinarola, quindi le associazioni della città che stanno continuando a dare un grande supporto ad essa, ad animare con diverse Befane e il centro. E poi nel weekend arriva un altro mercato, visto che è la seconda domenica del mese, il mercato dell'Antiquariato, che ovviamente si sposerà con il mercatino della Befana che rimane al Pincio. Il mercato dell'Antiquariato si dislocherà su tutta via Arco d'Augusto, prenderà una parte di Piazza Andrea Costa con il mercato degli obbisti che rimarrà lungo Corso Matteotti. Anche la pista sul ghiaccio è arrivata verso la fine e chiuderà il 9 gennaio, quindi comunque un altro weekend importante per la nostra città, dove il messaggio che vogliamo lanciare ai fanesi, a quelli che vivono nel nostro territorio è comunque continuiamo ad aiutare le nostre attività che in questo periodo ovviamente soffrono in modo particolare, ma che hanno bisogno di continuare a lavorare. Quindi aiutiamoci perché insieme, solo insieme possiamo passare questo difficile momento. Grazie.